Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale YouTube, come promesso una volta a settimana risponderemo alle vostre domande e ci sono state proprio un paio di domande live molto interessanti sulla delibera 1574 del registro 2.0 del CONI quindi ci ritorneremo, ma prima di ritornare sulla delibera, grazie al mio amico Massimiliano, da oggi avremo anche una bellissima sigla quindi ve la mostro, stiga! Ma veniamo subito a noi, la delibera 1574 del registro 2.0 del CONI Allora, mi avete fatto un bel po' di scuole la stessa domanda e andiamo a porla ma quante attività sono obbligatorie fare, o tantomeno è obbligatoria fare l'attività sportiva, l'attività didattica, l'attività formativa non è molto chiaro per noi questo punto Allora, in primi si dico tutte alle scuole che in allegato o sul nostro sito internet è visibile la delibera, c'è il link ma inoltre nell'altro video, in descrizione, avevo inserito il link della delibera che cliccando su si aveva direttamente la delibera ma vi spiegherò benissimo questa domanda L'obbligatorietà della partecipazione è correlata a un'attività formativa che possa essere sportiva, didattica, formativa e uguale l'importante è che sia esclusivamente un'attività riconosciuta e che possa essere inserita nel registro Ovviamente tante scuole mi dicono Presidente, noi nelle telefonate riceviamo, non capiamo più chi è che è riconosciuto, chi è che non è riconosciuto come possiamo fare? Io vi consiglio un punto fondamentale di dare sempre un occhio o tantomeno di chiederlo voi cioè nel senso che se una scuola organizza un concorso vi chiamo, mi telefono Salve, siamo della direzione D Facciamo questo concorso il, in data il La vostra domanda principale, in questo caso esiste ASD o SSD potrebbe essere semplicemente dire Ma il vostro concorso è riconosciuto dalla delibera? Partecipa alla delibera? Ebbene è importante fare questa domanda Dire, ma se partecipo al vostro concorso io verrò inserito nel registro 2.0 come attività sportiva? Se partecipo a un vostro concorso di formazione ve l'ho inserito nel registro come attività formativa? Se partecipo ad uno stage o ad altre attività potrà in sé essere inserito in attività didattica? Ovviamente vi ho dato un ordine generico non vi ho detto che l'attività sportiva formativa o didattica deve essere nominata in questo modo qui ma è importante che voi informiate sempre se l'attività a cui partecipate è valida o meno perché ricordo alle associazioni e le società sportive dilettantistiche che in caso in cui non viene caricata un'attività o delle attività nel proprio registro è possibile che venga cancellata e quindi possa avere riscaldi fiscali perché ricordiamo che per le associazioni e le società c'è l'obbligatorietà dell'iscrizione del registro coni come dell'affiliazione perché non dimentichiamo che una scuola di danza non deve solamente partecipare ad un concorso o ad altre attività ma deve anche iscriversi al registro 2.0 presso un ente di promozione sportiva nel nostro caso è ASI ma comunque c'è la possibilità di iscriversi presso anche altri enti di promozione sportiva detto questo ribadisco che sotto se avete domande potete rilasciare un commento e vi sarà risposto se è possibile il mio Instagram rimane al vostro a comprare a disposizione per qualunque altra informazione io vi lascio un forte abbraccio Danilo Ravinci, Presidente Danza Etale responsabile nazionale del settore danza di ANSI, enti di promozione sportiva e riconoscerò dal CONI un abbraccio forte ciao a tutti ciao a tutti